E così inizia una nuova giornata, se così si può definire. Più stanco di prima, preparo sempre la stessa colazione, per poi passare sul divano a guardare sempre i soliti canali. Si pranza, ci si prepara e si corre per andare al lavoro. Si fanno più o meno sempre le stesse cose e si vedono sempre le solite facce. Finalmente finisci lavorare, ma sei completamente estremato che l'unica cosa che vuoi fare è tornare subito a casa e dormire. Mese passa in fretta, ma subito dopo ti accorgi che dopo aver pagato tutto quello che c'è da pagare, ti ritrovi praticamente senza un euro. E così ti ritrovi intrappolato in una rutina infernale, giorno dopo giorno sei costretto a ripetere sempre e sempre le stesse cose. Sei completamente bruciato e così ti permetti anche una piccola vacanza di una, due settimane. Magari come piacciono gli italiani, in un bel resort con piscina e vista mare, ma è solo un sollievo apparente, perché sei benissimo che tra poco l'incubo sta per tornare. Ma io ho detto no a tutto questo. Mi sono licenziato, ho comprato un biglietto, li sono andata. E che l'avventura abbia inizio. Non voglio parlare del futuro Non voglio parlare delle cose che ho fatto Non voglio parlare della loro Non voglio parlare del futuro Non voglio parlare del futuro C-drambe? C-drambe? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.